la pagheranno cara il palazzo devo andare al palazzo la corda togliamola faccio io è mia merda ti copro io Lara tu arrampicati grazie al cielo Roth eccomi Grimm è morto l'avevano catturato per farmi arrendere ma lui sai com'era eh Grimm vecchio cucciuto mi dispiace Roth no fatti coraggio Lara non abbatterti quando sarà tutto finito prenderemo in suo onore proseguo verso il palazzo mi puoi coprire sì ho campo libero fino alle mura del palazzo ok elicottero di salvataggio N888RC decollato da nave cargo Trinity per rispondere a SOS qui Conrad Roth dell'Endurance mi ricevete? Lara hai sentito? sta arrivando un elicottero di salvataggio fantastico Roth accendi un segnale io prendo Sam e gli altri Lara forse dovrei non finirà come col pilota io li ho cacciati in questo casino e io li tirerò fuori grazie a tutti attenta Lara quel ponte brulica di guardie Benone consigli? non sarà facile ma forse puoi attraversarlo da sotto temevo che lo dicessi tranquilla non ti perderò certo di vista Lara li tengo sottotiro ci siamo cosa starà succedendo laggiù? dici che hanno preso la straniera calma se non l'hanno catturata lo faremo noi padre Mattias ci darà impasto aglioni se non la troviamo se non la troviamo noi la troverò vada vada ehi che succede? un gestino giù giù ti hai fatto prendere un colpo fai bene? io non so più ferma non muoverti o ti vedranno aspetta adesso qui siamo bersagli facili ferma aspetta ce l'ho vai ferma aspetta aspetta Lara via libera grazie per l'aiuto adesso siamo pari Lara attenta che l'ammazzo arrenditi sono precipitati sarà morta? non so non vedo niente ha un'arma la del specola è sotto ce ne sono troppi Lara vattene da lì pronta vado dentro sicura di farcela a Lara? li salverò e tornerò con loro lo prometto tornerò con loro Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Così muoviti tu. Calmati, tanto perdi lo stesso. Cazzo di nuovo. Ci penso io. Ma che... Diamante qualcuno! Questo ti scanderà! Mi fai ridere! Alicia, tesoro. Ti scrivo a malincuore, ma forse non avrò altre occasioni per farlo. La tua mamma è finita nei pasticci e potrebbe star via per molto tempo. Non so quando o se leggerai queste parole, ma sappi che io ho lottato per te. Tutto ciò che ho fatto nella mia vita è stato per il tuo bene. Tutto il tempo lontana da te, tutti i soldi che ho messo da parte, tutti i sacrifici... Per... ... Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sono qui solo grazie a lui. Sentite, c'è un elicottero in arrivo. So che tengono Sam da qualche parte. Avete visto Whitman? Forse non è arrivato alle stanze degli ospiti. O forse è passato direttamente in prima classe. Lo troveremo. E anche Sam. Dopo che saremo usciti di qui. Mi inventerò qualcosa. Bene, proviamo a muoverla un po'. Forza, di nuovo. Ok, pronti. Saltiamo! È inutile, Reyes. Bene. Oh, merda. Lara, quest'isola è un covo di matti. Parlavano di uno spirito del sole. La regina del sole. L'antica sovrana di Yamatai. Scherzi! Vuoi dire che questa è Yamatai? Sì, così. Beh, è già qualcosa. Siamo partiti per questo, no? Non è come ce l'aspettavano, eh. Ah. Va bene. Gravala. Qui sta crollando tutto. Il pavimento inizia a deformarsi. Non pensarci, Lara. Tiraci fuori da qui. Continua così. Salta. Noi teniamo ferma la gabbia. Detto è scura, siete ancora interi. Ok. Ok. Ti tengo io. Grazie, Tommy. Ci è mancato poco. Beh, si mette male. Aggrappatevi a qualcosa. Il pavimento è andato. Ragazzi, guardate giù. Il pavimento è trovato. Dobbiamo uscire da qui. Merda, siamo fottuti. Lara, attenta alla forza. Non so che avremo di sotto. Presto, Lara! Non so cosa vuoi fare, ma fanno in fretta. Più in fretta, Lara. Vibrami da qui! Guardate, da giù si vede una luce. Non basta, Lara! Grazie. Guarda, c'è mancato un soffio. Lara, di qua c'è una via d'uscita. Ok, andate. Io penso a Sam e Whitman. Dai, andiamo. Andiamo fuori! Ma qui sta crollando.